A chi sta? A Vinnese, la salivise, la salivise, la salivise, la salivise, la quasi funerale! Sai come si chiama la tua malattia? Amore, testa di cazzo! Posso almeno andare al bagno? La tavoletta? La mangia la tavoletta! Signor Bressan! La zianna non c'è più! Ania! Ania Covacci! Io la chiamavo Anna, va bene? Ma è scemo? Ma lo colpisci sempre! Con il sistema frequenza! Come dite voi ragazzi? Non sballo, eh? Un'epifania, eh? Un'epifania! Concentration! Il mio nome è presteso e Zoran Spazzapal! Chiamati come vuoi, l'importante è che devi stare muto! Ma credi che basti vincere quattro salami per farmi contento? Come fai a occuparti di un ragazzino come Zoran? Vincetti? Ma se fosse questa la mia ultima possibilità? Wow! Grazie, nipote! No! 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 No!